ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 questo è un video particolare perché è un video dove praticamente vi ringrazio per un piccolo traguardo raggiunto che è quello dei 100 iscritti non è molto ma sinceramente non è neanche poco in pochi mesi non mi aspettavo sinceramente di arrivare a un livello tale ovvio c'è ancora tanto da lavorare c'è ancora tanto da fare però per adesso sono veramente soddisfatto così quindi volevo ringraziare tutti voi che mi seguite che commentate che sono siete partecipi e la cosa mi fa molto piacere quindi che siano due iscritti o che siano cento o diecimila l'importante comunque cercare di fare un buon lavoro e di fare dei video apprezzabili detto questo spero che ci vediamo presto per il video dei mille iscritti e grazie ancora di cuore e ci vediamo nei tutorial come sempre ciao a tutti grazie a tutti